Dopo il primo corto realizzato ad ottobre da una scuola di Vercelli, il Festival Ciaxi Gita riprende il suo percorso per l'edizione 2015-2016 con l'Istituto Comprensivo di Castelforte in provincia di Latina, che ha trattato la problematica dell'inquinamento ambientale. Un lavoro straordinario fatto da 85 alunni delle scuole medie che, accompagnati dai docenti e guidati dalla regia di Gianni Petrizzo, hanno eseguito le riprese presso il centro visite di Trentova, d'Agropoli. Oltre alla storia, i ragazzi di Castelforte hanno utilizzato un linguaggio multietnico per lanciare un messaggio universale, per poi condividerlo attraverso uno dei social network più utilizzati al mondo. In compagnia dell'insegnante Concetta dell'Istituto di Castelforte. E allora, qui per Ciaxi Gita, edizione 2015-2016, chiediamo subito alla professoressa Concetta e poi a tanti ragazzi che hanno partecipato, circa 85, cosa ne pensano di questo progetto? Un progetto piuttosto interessante. Mi sono proprio divertita ed è stato divertente con tutti i ragazzi girare un video parlando di un argomento sicuramente attuale, estremamente importante perché, cosa dire, la natura oggi dovrebbe essere salvaguardata e protetta da tutti noi ed è importante che questo argomento sia trattato con i ragazzi perché loro in prima persona debbono rendersi conto che questa terra che ci è stata data in dono dovremmo cercare in tutti i modi di salvaguardarla per noi e salvaguardarla per il futuro, per chi verrà dopo di noi. Che dire, la giornata è stata molto interessante, i ragazzi si sono divertiti ed hanno veramente ognuno con le dovute differenze perché abbiamo ragazzini di prima media, di terza media e quindi di seconda, quindi a seconda dell'età l'hanno affrontata in maniera diversa ma tutti quanti in maniera costruttiva e non... tornerete di nuovo ad Agrofone? Sì, anzi io proprio in prima persona mi farà piacere ritornare perché non lo credevo ma mi sono divertita e l'ho trovato piuttosto interessante anche perché sentirsi attori e protagonisti per un giorno è un'esperienza insomma piuttosto bella. E devo dire che i ragazzi hanno anche utilizzato le lingue per... Infatti, questo anche mi sembra che anche l'utilizzo delle lingue e l'utilizzo di un'altra tematica che in questo momento trovo molto interessante è il fatto di far incontrare varie nazionalità in un mondo ormai sempre più cosmopolita penso che sia un risultato ottimo. Chiediamo subito dalla voce dei ragazzi, dei protagonisti di questo lavoro che cosa ne pensano. Signorina? Secondo me è stato anche divertente venire qui ma anche, come devo dire, istruttivo anche perché abbiamo, facendo battute in varie lingue abbiamo anche imparato nuove cose. Qui, cioè io mi sono divertita e penso che anche gli altri si siano divertiti. Sì, abbiamo imparato nuove cose, è stata una bella esperienza. La difficoltà maggiore che hai incontrato? Parlare in francese. Davvero? Però ci sei riuscito bene, tutti avete fatto un buon lavoro, diciamo la verità. Sì, abbiamo fatto un buon lavoro, è stato molto difficile. Ecco, allora ancora, sentiamo, vieni. Allora, che cosa ne pensi di Ciaxi Gita? Cioè, è stata una bella esperienza e è stata bella recitare in lingua. Conoscere pure tanti ragazzi che magari non conoscevi, no? Sì. Lo rifaresti? Sì, sì. Bene, allora tu signorina? No, è stata una bella esperienza e credo che la riferei, sì, senz'altro. È la prima volta che reciti? O già hai avuto esperienza nel cinema però, non nel teatro? No, no, è la prima volta. Nel cinema è la prima volta, poi nelle recite scolastiche. È stato difficile? È un po' per la pronuncia e per memorizzare la parte. Prima di venire qui a realizzare Ciaxi Gita, che cosa pensavi che fosse? Beh, pensavo che fosse stata una sciocchezza come una delle altre, invece poi quando sono arrivato qua, visto che stava tutto organizzato e mi sono divertito molto. Questa è stata un'esperienza molto divertente e io mi sono divertita molto. Spero che gli altri alunni, che futuri alunni della scuola media Alfredo Fusco verranno qui a vedere, a fare uno spot come abbiamo fatto noi. Oggi sarà un'esperienza bellissima e penso che ci ritornerei. Spero che questa esperienza si ripeta, che è stata molto bella, mi sono divertito anche con il tempo brutto. È andata comunque bene. E noi... E spero che gli altri faranno la stessa esperienza nostra. Ma sicuramente e auguriamo, come in ogni nostro servizio, un punteggio ottimale per i ragazzi di Castelforte perché vi ricordo che siete in concorso i primi di giugno per vincere il primo premio di Ciaxi Gita. Per quanto riguarda noi abbiamo terminato. L'appuntamento è... No, mi piace a voi. Grazie. Al prossimo appuntamento.